Eccoci, una giornata storica. Indubbiamente una giornata storica, una giornata piena di speranza. E' anche un passo avanti straordinario nella risposta della nostra sanità al Covid. Oggi abbiamo cominciato una campagna di vaccinazione che ci accompagnerà nei prossimi mesi per arrivare all'intera copertura della maggior parte dei soggetti liguri, cioè tutti coloro che vorranno farlo, partendo ovviamente, come abbiamo detto, dai 60.000 operatori sanitari degli ospedali, ma anche dell'RSA e dagli ospiti dell'RSA. E già questo comprendete bene cosa significa per i nostri ospedali. Vuol dire che la maggior parte dei pazienti che oggi sono in gravi condizioni nelle nostre corsie, domani non lo saranno più. Poi evidentemente passeremo alla popolazione di tutta la Liguria fino almeno a 500.000 vaccini. Questo occorrerà un po' di mesi, ma noi riteniamo che già nei primi due o tre mesi di vaccinazione si possa coprire un campione sufficientemente ampio da rendere ovviamente la battaglia al Covid molto più facile. Grazie. Mi porto, c'è qualche idea su quando partirà esattamente la seconda fase e su dove saranno collocati? Cosa si intende per seconda fase? Sulla popolazione. Sulla popolazione immagino, la struttura commissariale da cui dipende non ha detto niente. Io immagino tra febbraio e marzo, se entro la metà di febbraio l'obiettivo target dei 60.170 circa sanitari e ospiti dell'RSA sarà terminato, da quel momento lì ovviamente si scenderà la vaccinazione di comunità partendo dai soggetti più esposti. quindi i grandi anziani della nostra regione e tutte le persone che hanno patologie evidentemente sensibili al Covid. Grazie.